Come va Silvia? Come sta andando? Ce l'hai fatta eh? Che cosa ti spinge a farlo? Eh, la mia vita che è l'unica vita. Il grande messaggio, brava! Silvia, ci siamo! Questa, mezza maratona, una di tantissimi traguardi tuoi. E adesso mostriamo di volta! Silvia, grandissima! Grazie, anche in boda per la foto! Fermati qua Silvia! E c'è il momento Silvia, ti do il microfono! Per noi veramente il caffè è il tuo lavoro, lo fai te perché è veramente un piacere premiare Silvia Furrani che con grinta caparbietà affronta i 21 chilometri e 0,97 e ogni volta che c'è la possibilità di farlo. A lei è una grinta totale perché lei il prossimo weekend se la troviamo a Teleton ma non a fare un'ora, a farne 24 di ore, l'ha fatto lo scorso anno e lo farà anche quest'anno quindi l'applauso va, non doppio, triplo! Grande Silvia, ma dimmi, dimmi con chi è in corso tu oggi. Io non ho mai capito mai da 32 anni. Una sclerosi mutua, però non è quella che deve spaventare, deve spaventare il fatto di non prendere in mano la propria vita e di viversela. Ne abbiamo una e va giuntamente risultata. Non dico magari alla fazzata di come sono io, però insomma, vivola, 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 perché non si torna mai indietro se deve stendere solo avanti. Grazie. Grande Silvia! Un grande esempio, grandissima! Ci vediamo sabato e domenica, ok? E sì, ci terremo compagnia, non 24, perché io mollo prima, eh Silvia. Ci sono altri arrivi, ci sono altri arrivi, sì! Poi chiamatemi quando ci sono le premiazioni, io sono...